È crisi nera ormai al Comune dell'Aquila. È stato nominato innanzitutto durante il Consiglio Comunale Raffaele Daniele come vice sindaco, cosa che ha voluto fortemente il sindaco Pierluigi Biondi per rimpiazzare l'assenza di Guido Liris, nominato assessore regionale. Il rimpasto di giunta però non appare vicino e così la maggioranza ha reagito disertando in massa il Consiglio Comunale previsto per stamattina, una cosa, secondo la minoranza, fatta in maniera deliberata. C'erano soltanto Ferdinando Colantoni di Insieme per l'Aquila che voleva essere presente, visto che c'era anche il comitato di Sassa che si sta occupando delle antenne, era prevista infatti la discussione, e Maria Luisa Ianni di Forza Italia. Era presente anche il presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari e c'era pure l'assessore di Fratelli d'Italia, Alessandro Piccinini. Altri consiglieri e assessori si sono visti ma molto alla spicciolata, senza neppure entrare nell'aula del Consiglio Comunale. Dopo l'appello, visto che c'erano soltanto 13 consiglieri, Tinari ha sciolto la seduta per mancanza del numero legale e così è scoppiata la bagarre nella minoranza che ha deciso di occupare l'aula del Consiglio Comunale. È stata lasciata vergognosamente vuota dall'amministrazione, mai si era toccato un punto così basso. Si convoca un Consiglio Comunale e non si presenta né la maggioranza né l'amministrazione. È una mancanza di rispetto nei confronti, non solo dei consiglieri di opposizione, che dalle nove orari di convocazione erano presenti in aula, ma dei cittadini. Una cosa mai vista, secondo la minoranza, insomma, questa con gente che ha deciso di andare in regione e dicono, e poi Mancini, se la prende pure con i consiglieri comunali giovani. Non ho mai assistito a una cosa del genere. Oggi abbiamo visto la maggioranza decidere di compiere una premeditata assenza di massa, sapendo che c'erano all'ordine del giorno questioni importanti, come l'antenna di Sassa. I cittadini di Sassa sono stati rimbalzati più e più volte. C'era finalmente la prima delibera dell'era Biondi, quella sui centri storici, e loro, nonostante, decidono di compiere una premeditata assenza di massa, perché, poiché non sono in grado di mettersi d'accordo sulla spartizione delle poltroni, e cioè sulla composizione della nuova giunta, stanno litigando e non avevano quindi numeri per poter votare le proprie delibere. Perché? Perché quindi si stanno ricattando a vicenda. A questo noi stiamo assistendo. Il 31 di marzo scade il termine della presentazione del programma annuale, del bilancio di previsione, e stiamo a zero. Non c'è nessuna proposta. Solo questa giunta e questo sindaco, quello che era rimasto della giunta e del sindaco, a Coganti, avessero perlomeno l'umiltà di capire che non sono in grado di governare questa città, e quindi farebbero bene a lasciare il loro incarico e tornare a casa. L'ultima annotazione è così. Questa arroganza di ragazzi che sono stati eletti a 25-30 anni in consiglio comunale, che invece di studiare e capire come si amministra una città, vivono e parlano soltanto di slogan alla popolazione.